Laura Pugliese, un anno dopo il suo ingresso in Consiglio Comunale, questa conferenza stampa per raccontare che cosa alla città? Beh, sicuramente noi avvertiamo l'esigenza di comunicare alla città, l'assoluta, il distenso e la contrarietà rispetto ad un modus agendi e operandi che non condividiamo nei metodi, negli approcci, nell'animus anche, non ne condividiamo i toni e i modi. Quindi avvertiamo un'amministrazione che dialoga poco con i suoi all'interno, comunica molto all'esterno, ma di fatto è come se volesse lanciare un po' di polvere negli occhi, quasi a coprire delle manchevolezze deficitarie anche in ordine ad un apparato, ad un organo esecutivo che francamente ad oggi non ha dimostrato di essere all'altezza delle aspettative che anche nei confronti dei cittadini il sindaco e i suoi sponsor hanno in qualche modo indotto a creare, a suscitare. Quindi risultati francamente non ne vediamo. Sicuramente apprezziamo il lavoro di continuità amministrativa che sotto alcuni aspetti sta portando avanti l'amministrazione, vedasi il PSC l'anno scorso, vedasi l'attuale movimentazione relativamente all'adeguamento sismico di taluni edifici comunali, ma di svolte di quell'altra storia che avevano raccontato ad oggi non vediamo nulla, se non in alcuni contesti un ritorno al passato, un modus operandi e agendi che rimanda a vecchi modi di fare politica e che sotto il profilo finanziario anche rimanda ad un modus agendi che quasi quasi non tiene conto delle evoluzioni normative che nel tempo si sono succedute. Perché si crea questo legame, questo asse nuovo con Stefano Lucciaro, con il capogruppo del Partito Democratico? Forse è un'alleanza vecchia che ritorna. Io e il consigliere Stefano Luciano abbiamo comunque già condiviso un precedente percorso amministrativo che ci vedeva sempre comunque incanalati, all'epoca erano liste civiche, in due liste civiche diverse, ma comunque che convergevano sempre dalla stessa parte, quindi condividiamo delle ben precise obiettivi politico-amministrative, e quindi pur non essendo da, come dire, partenze uguali, convergiamo poi su obiettivi comuni. Aderirà lei al PD o si staccherà Luciano dal PD? Guardi, io sul Luciano non so, non posso rispondere. Quindi per quanto riguarda me, io al momento mantengo ferma la mia posizione di opposizione. Il dialogo con Luciano c'è sempre stato. Non è escluso comunque che io possa maturare una maggiore consapevolezza di aderire ad un partito, però per il momento mantengo ferma la mia posizione in una coalizione civica.